Il percorso di giustizia riparativa è difficile ma non impossibile. A darne testimonianza al Teatro Eschilo di Gela è stata Agnese Moro, che ha parlato dei suoi improbabili e difficili amici, che il 9 maggio 1978 uccisero il padre. Un convegno formativo di elevata importanza, voluto fortemente dalla Camera Penale Eschilo di Gela e dall'Ordine degli Avvocati, in cui sono stati esaminati i profili normativi e i problematici percorsi esperienziali per riparare l'irreparabile. La giustizia riparativa punta a instaurare un contatto diretto tra offeso e offensore, il quale permette al primo di esprimere i propri sentimenti ed emozioni in relazione alla lesione subita e al secondo di responsabilizzarsi. Si inserisce sempre nell'ambito della giustizia penale perché comporta delle attenuanti, comporta un atteggiamento diverso che viene valutato positivamente da chi giudica, ovvero da chi svolge indagini, ovvero ancora da chi controlla l'esecuzione della PEN. Per cui è un istituto che presenta degli aspetti un po' troppo teorici, perché per poterlo realizzare, tipo ad esempio i centri di mediazione, ancora purtroppo non ci sono e comunque implicano l'investimento di molti fondi, che allo Stato non ci sono. Però è una sfida che va vista positivamente. Va vista positivamente perché l'articolo 27 della Costituzione tende alla rieducazione del condannato. In questo caso questo percorso di rieducazione con la giustizia riparativa inizia prima. Ad occupare le poltrone del teatro comunale, anche tanti studenti delle scuole superiori gelesi. Provare a spiegare alle nuove generazioni che il messaggio che molto spesso, probabilmente anche quasi sempre tra i social e i media arriva, non è il messaggio giusto, anche se è quello più suggestivo ed è quello che fa subito presa. Perché è bello, è efficace, è figo dire questi qua devono marcire in galera, questi bruti che hanno violentato la ragazza. Peccato, perché negare una cosa del genere? E' chiaro che un giudizio, c'è un fatto che destra grande allarme sociale, però spiegare ai ragazzi che c'è una prospettiva più ampia, più larga, che quei ragazzi che hanno commesso quel delitto efferato, che vanno giustamente puniti, sono probabilmente anche loro vittima di un disagio che va individuato e va colmato perché venga restituita alla società la parte migliore di loro stessi. Il giudice Fabrizio Giannola ha guidato i partecipanti in un dibattito in cui si è decretato l'importanza dell'automano sia della vittima che di chi ha commesso il reato. Gli esempi di giustizia riparativa riguardano fatti giganteschi come appunto quelli del terrorismo negli anni di Piombo. La dottoressa Moro ne è un esempio, ma io credo fermamente che possa essere attuata anche con riferimento ai reati che possono riguardare la nostra città di Gela e che possono riguardare relazioni interindividuali, ma soprattutto può servire a prevenirle. La realizzazione dell'evento è stata supportata dal Rotary Club locale. La giustizia riparativa, o meglio dire, l'obiettivo della giustizia riparativa coincide molto con i valori rotariani che noi portiamo avanti. Ovvero? Ovvero i valori dell'amicizia, della pace, del dialogo e della tolleranza. Grazie. Grazie.